Si è conclusa nel perimetro del Parco 5 Sensi, in località Foce a Sarno, la prima edizione del Sarno Tour. In viaggio lungo il fiume, da Castellammare a Sarno a Punto, passando per Torre, Scafati, Nucera, San Valentino, deputati e senatori del Movimento 5 Stelle. Angelo Tofalo, Paola Nugnes, Silvia Giordano, Sergio Puglia, Paola Colonnese, Luigi Gallo. Lo scopo era quello di denunciare lo stato di inquinamento del corso d'acqua e dei suoi affluenti e proporre idee per il disinquinamento. Si intende far approdare crisi permettendo la questione del fiume Sarno in Parlamento, con un occhio particolare alle istanze di alcune zone dei territori, soprattutto in relazione ai possibili effetti collaterali del progetto Grande Sarno. Intervenire sulle bonifiche, hanno ribadito ieri i grillini, completare il sistema per arrivare ad una soluzione, ma anche agire sul fronte sondazioni, con manutenzioni e demolizioni coraggiose laddove necessario, prima di procedere con le vasche di laminazione. È importante cercare di capire che dobbiamo completare questo sistema, se no non arriveremo mai a una soluzione, quindi si tratta di avere un po' di coraggio per chiuderla questa cosa. E poi c'è il problema delle sondazioni, che è un altro problema sul quale sta intervenendo il grande progetto Sarno. Magari noi speriamo che si possano fare prima le cose squisitamente indispensabili, cioè la manutenzione. Con la manutenzione noi interveniamo aumentando la capacità di trasporto del fiume, poi interveniamo con le demolizioni. Perché no? Dobbiamo il coraggio di demolire ciò che è stato fatto in maniera abusiva. C'è un reggio decreto del 1904 a 99 anni che prevedeva l'inedificabilità nelle aree a 10 metri dalle sponde. Sappiamo che cosa è successo. Quindi interveniamo in maniera forte, interveniamo iniziando a demolire un po' di roba, ridiamo al fiume lo spazio naturale di cui ha bisogno. A valle di questo poi valutiamo come fare le vasche di laminazione, se ce n'è ancora bisogno. Insomma, si tratta di assegnare delle priorità. È più facile fare una vasca di laminazione piuttosto che demolire. Ebbene, sbagliato. Noi dobbiamo prima demolire e poi fare le vasche. Il gruppo del Movimento Grillino ha abbinato al Sarno Tour un concorso di idee rivolto agli studenti del territorio, ai quali è stato chiesto di raccontare con immagini e parole come vedono il Sarno e come avrebbero voluto che fosse. Pervenuti oltre 100 disegni usati come pannelli scenografici per la zona dell'anfiteatro del parco. In pratica, una scenografia unica al mondo che ha catturato l'attenzione di tutti gli ospiti, in particolare della senatrice Nunes che ha pubblicato alcuni disegni sul suo profilo Facebook.